Ma c'era una volta un piccolo paese, e in questo piccolo paese c'era un piccolo governo, c'era stata appunto una piccola prima repubblica, ormai c'era una piccola seconda repubblica, e c'era anche un ministro dell'istruzione. Questo ministro dell'istruzione a un certo punto pensò che nella scuola, soprattutto nella scuola pubblica, c'erano un po' troppi insegnanti, un po' troppe materie, così cercò di eliminare le materie che in qualche maniera si consideravano superfue. Per prima cosa mandò a casa gli insegnanti di lingue straniere, perché il piccolo paese è così bello che nessuno se ne va all'estero. Poi licenziò gli insegnanti di letteratura, perché la letteratura è oggettivamente un rompimento di palle. Tant'è vero che la signora la gente ha letto, dorme, ma dorme, perché dorme? Perché legge per addormentarsi, capito? Poi licenziò anche gli insegnanti di geometria, di geografia per assonanza, di matematica, biologia, chimica, eccetera, eccetera, e rimase l'unico insegnante che insegnava la materia considerata davvero indispensabile nel piccolo paese, ovvero sia fila indiana. La fila indiana è ottima per i piccoli cittadini del piccolo paese, e così imparano subito a lavorare in catena di montaggio durante la settimana. E poi è ottima anche nel tempo libero, perché nel tempo libero i piccoli cittadini del piccolo paese vanno in chiesa, al supermercato, vanno, vanno, e allo stadio, che infatti sono tre esercizi commerciali aperti di domenica. Ed è ottima la fila indiana per andare a pagare alle casse, è ottima la fila indiana per entrare e uscire dallo stadio, è ottima per andare a prendere il corpo di Cristo. Insomma, l'insegnante di fila indiana arrivò il primo giorno di scuola davanti ai bambini e disse ai bambini disponetevi in fila indiana, e i bambini naturalmente si misero in cerchio perché i bambini sono stupidi. L'insegnante disse ai bambini la fila indiana non è il cerchio, e poi lo sapete che il cerchio è vietato come la bestemmia e la masturbazione? Infatti chi si masturba diventa cieco, questa è scienza. Chi bestemmia diventa ateo, ma chi si mette in cerchio diventa uguale, e l'ugualianza è un pregiudizio, non esiste. Perciò bambini disponetevi in fila indiana in ordine di altezza. La prima della fila indiana era la bambina alta e bionda, ma dopo lì lei ci stava la zingarella che disse alla signora maestra io sono più alta della bambina alta e bionda, che è più alta di me solamente perché c'è le scarpette di pietacchi. Giusto, disse democraticamente al signora maestra, ma se mettessi per prima te tu risulteresti essere più bassa della seconda, sarebbe una cosa strana insomma per una fila indiana. Ma se lasciassi per prima lei, magari lei domani potrebbe venire con le scarpette basse o addirittura scalza come te, e sarebbe la prima ma più bassa della seconda. Dunque lo vedete che l'ordine d'altezza non è un buon parametro, era un buon ordine per la fila indiana? Allora bambini disponetevi in fila indiana in ordine di colore dei capelli. La prima era sempre la bambina alta e bionda, però stavano in fila per tre perché accanto a lei c'era la bambina bassa e bionda e anche il bambino rumeno. Dissero ma noi siamo in fila per tre, non è più una fila indiana. Giusto, disse la signora maestra. Lo vedete che l'ordine d'altezza non è un buon parametro per la fila indiana? Eh? E non è un buon parametro quello, ma non è un buon parametro neanche il colore dei capelli. Infatti da questo punto di vista questi tre bambini dovrebbero essere considerati uguali, ma come possiamo considerarli uguali se questa è alta, bionda, carina, quell'altra è bionda pure lei, però è una cozza, una racchia, una culona. Addirittura quella è un rumeno ed un'altra razza. Allora bambini, adesso disponetevi in fila indiana in ordine di diversità. La prima, la più uguale, era la bambina alta e bionda. Dopo di lei ci stava la bambina bassa e bionda, poi ci stava la zingarella, il rumeno, la cinesina ci stava, e poi c'era il bambino basso grasso con gli occhiali, per ultimo il negro, che essendo un negro africano bingo bongo, era l'ultimo perché era ovviamente, oggettivamente più diverso da tutti. Ma il penultimo della fila indiana, il bambino basso grasso con gli occhiali, disse, sì ma maestra io dovrei stare davanti alla zingarella, perché io sono nativo del piccolo paese. Ma anch'io, disse la zingarella, anch'io sono nato del piccolo paese. Sì però tuo padre è straniero. No, mio padre è del piccolo paese. Sì però tuo nonno è straniero. Ma anche mio nonno è del piccolo paese. Sì vabbè, dissero tutti in coro, e questo sarebbe bastato per farla stare zitta, però non ne parlarono perché era comunque un piccolo paese democratico, un piccolo paese. Gli disse, sì vabbè, però tu sei l'unica che vive nelle roulotte, mentre invece tutti noi, compreso il negro, compreso il negro, stiamo nelle case di mattoni. Così la sbatterono, non all'ultimo posto, ma al penultimo perché il negro è il negro, oggettivamente. Allora, la zingarella, non potendosela prendere con quelli che stavano davanti, disse signora maestra, ma l'ha visto sto negro? È proprio nero, nero come il carbon. Se io mi accoppiassi con lui, i nostri figli sarebbero sicuramente più scuri di me, se non addirittura chiazzati come le vacche. Giusto, disse democraticamente la maestra referendiana. Giusto? Eliminiamo il diverso prima che inquini la razza. Presero il negro lo buttarono giù dalla finestra. L'ultima della fila adesso era la bambina zingarella, la penultima, la cinesina, disse sia maestra e zingari rubano. Ma io non rubo, disse la zingarella, sto qui a scuola, a studio. Sì, però tuo padre ruba. No, mio padre non ruba, mio padre lavora. Sì, però tuo nonno ruba, ma mio nonno ha 90 anni, lavora ancora. Mica ruba, non è un ladro. Sì, vabbè, dissero tutti in coro e questo sarebbe bastato. Però ne parlarono perché il piccolo paese è comunque un piccolo paese democratico e gli dissero sì, vabbè, ma dei cinesi si dice che sono grandi lavoratori, anche quando lavorano gli zingari. Di loro non si dice la stessa cosa. Giusto, disse la signora maestra di fila indiana. Eliminiamo il diverso prima che mandi in crisi l'economia. Presero la zingarella, la defenestrarono. L'ultima della fila adesso era la cinesina. Il penultimo, il rumeno, disse sia maestra, io sono straniero come la cinese. Noi siamo pochi nel piccolo paese, come anche i cinesi. Ma noi rumeni siamo pochi anche in Romania, mentre i cinesi in Cina sono più di un miliardo. Se venissero tutti qui nel piccolo paese diventerebbero la maggioranza. Giusto, disse la signora maestra. Eliminiamo il diverso prima che diventi uguale. Presero la cinesina e la buttarono giù dalla finestra. L'ultimo della fila adesso era il rumeno. Il penultimo, che era il bambino basso grasso con gli occhiali, disse Sì maestra, ma sto rumeno che fa? Il patriota? No perché? Lui che è più bello, più intelligente, più alto di me, se diventasse al 100% un cittadino del piccolo paese, mi passerebbe avanti nella fila indiana? Giusto, disse la signora maestra di fila indiana democraticamente. Giusto, eliminiamo il diverso prima che diventi migliore. Presero il rumeno, lo defenestrarono. L'ultimo della fila adesso era il bambino basso grasso con gli occhiali. La penultima, che poi era pure la seconda, era la bambina basso e bionda, disse Sì maestra, ha notato sto culone accanto a me? No perché? Ha visto che c'era gli occhiali? No perché persino quando c'era il negro che era l'ultimo della fila, persino il negro bingo bongo, manco lui portava gli occhiali. Sarà mica la malattia infettiva. Giusto, disse la signora maestra. Giusto, eliminiamo il diverso prima che ci infetti a tutti. Presero il ciccione, lo buttarono giù dalla finestra. Adesso la fila indiana era composta da due bambine, una alta e bionda, una bassa e bionda. Quella alta e bionda, disse Sì maestra, non si capisce manco più che la fila indiana, siamo arrivati in due. Se qualcuno pure pensasse che questa era la fila indiana, magari potrebbe pensare che l'ordine è il rovescio, la quella più bassa, la quella più alta, la quella più stupida, la quella più intelligente. Giusto, disse la signora maestra di fila indiana democraticamente. Eliminiamo il diverso. Prima che crei i dubbi, presero la ciccione bionda, lo buttarono giù dalla finestra. La bambina alta e bionda, disse Sì maestra, abbiamo risolto il problema. Sbagliato, disse la signora maestra, perché siamo ancora in due e tu sei diversa da me. La presa e la buttò giù dalla finestra. Una brutta storia, una brutta storia. Ma per chiudere con un po' d'ottimismo, ecco, e col sorriso sulle labbra, possiamo dire che per volta lì il ministro dell'istruzione del piccolo paese fu molto contento perché nella piccola scuola del piccolo paese c'era stato un record. Nessun bambino venne bocciato. Grazie.